Allora, il testo è forte. Allora, qui dobbiamo scrivere una cosa. Chi ha scoperto l'America? Chi ha scoperto l'America? Chi ha scoperto l'America? L'America? L'America. Dunque, l'America... Non lo so. Non lo sa. Chi ha inventato l'energia elettrica? Oh, chi ha inventato l'energia elettrica? L'energia elettrica... Dunque, qui... Beh. Non lo so. Chi ha scritto la Divina Commedia? Chi l'ha scritto, la Divina Commedia? La Divina Commedia... Ehm... Non lo so. No, ma tu niente sai. Perché è successo qualcosa? Sì? Che è successo? Te lo chiedi a me. Lo dobbiamo sapere. Tu hai detto che è successo qualche cosa? Mi stai preoccupando? No, non tenere sull'espito. No, tu hai detto che è successo qualche cosa? Ma se è successo qualche cosa ti è andato a vedere. No, dimmelo! Cioè, diciamoci che è successo. No, non lo so. No, non lo so. Non lo so. È successo qualche cosa? È successo qualche cosa? Scusa. È successo qualcosa? È successo qualche cosa?